Il record divenuto poi Ariano Valleufita ci lascia, una nuova ammazzata per il calcio arianese che era già nell'aria. Carmine Santoro, direttore generale della società, si è recato di buon mattino a Palazzo di città per protocollare la lettera indirizzata al sindaco Antonio Mainiero in cui si annuncia la volontà di porre fine ad ogni attività. Il titolo di promozione è ora a disposizione di chi vorrà rilevarlo. È successo dopo una riunione molto lunga nel pomeriggio di ieri praticamente e con indefinibile disagio che mi hanno incaricato di comunicare a tutta la comunità arianese. che questa società non ce la può più fare a sostenere con dei bilanci passivi annualmente questa squadra in queste categorie. Tutti quanti sappiamo quello che è successo anche al vecchio US Ariano, neanche Ferruccio Capone, il presidente adesso Scandone, Scandone Montella praticamente, addirittura si ritrova nelle nostre stesse categorie e quindi è un problema prettamente economico. Questo presidente dell'Ariano Valle Ufita, al quale va un encomio particolare nella persona di Giancarlo Lambiase, non ce la può più fare con queste perdite secche, nette di esercizio annuali. Nonostante il settore giovanile che è all'avanguardia, tutti noi sappiamo praticamente che l'anno scorso con la nostra ante 18 abbiamo affrontato anche le fasi finali nazionali di questa categoria. che poi questo settore giovanile è stato l'asse portante anche della squadra dell'anno scorso. Però attualmente questo presidente, ripeto, al quale va il nostro ringraziamento particolare, non ce la può più fare e quindi è partita una nostra missiva all'indirizzo del sindaco e dell'amministrazione tutta. A quest'ora sarà stata già protocollata sul comune di Ariano Irpino con tutti i nostri particolari atteggiamenti da mantenere fino al 22 luglio quando ci sarà la scadenza dell'iscrizione al campionato di promozione campano. Termina anche l'avventura dell'allenatore dei record, potremmo definirlo, che è stato alla guida costante di questa squadra. Certamente la prima mossa che noi abbiamo fatto ieri sera per un motivo particolare noi abbiamo chiamato l'allenatore del vecchio e l'abbiamo liberato da tutti i suoi impegni dopo tanti accorgimenti, dopo tanti sacrifici che lui stesso ha fatto per questa società da tanti anni insieme a questo presidente. Tra le altre cose abbiamo fatto in questa riunione rappresenta anche il direttore sportivo Marinaccio il quale pure lui rammaricato praticamente ha dovuto prendere atto di queste decisioni, di questa società con il presidente e vari consiglieri che sostenevano già da tanto tempo che non ce la potevano più fare. Avevano già avvisate le istituzioni tutte di Ariano Irpino e delle comunità limitrofe e adesso questo titolo è a disposizione di chiunque, di chiunque vuole prendere in mano la situazione. Noi sappiamo tutti, forse voi dalla vostra tv avete anche comunicato che c'era un gruppo che voleva affiancarci oppure voleva rilevare proprio il tutto. Poi alla fine questo gruppo, come tutti gli anni, è venuto meno perché non si sono messi d'accordo tra di loro perché tutto sappiamo che alla fine poi è un fatto economico, prettamente economico. Avrà seguito Canale 58 in questi giorni una sorta di filmati proprio per risollevare il calcio? Voleva essere da sprono, io l'ho seguito, assolutamente sì, l'ho seguito ed è stato anche da parte vostra una cosa brillante praticamente però tutto questo non ha sortito a nulla e praticamente non c'è nulla. Io voglio significarvi soltanto una cosa, che praticamente non c'è più nulla da fare a meno che non esce qualche gruppo particolare come stava per nascere nei giorni scorsi quindi dobbiamo prendere atto di tutto ciò. Si può ipotizzare un rilancio del calcio da questo titolo? Noi volevamo partire da questo titolo, tant'è vero che noi assolutamente sì noi volevamo rilanciare, il nostro obiettivo era quello di rilanciare il calcio arianese tant'è vero che a novembre noi invece quando ci siamo trovati nelle posizioni arte della classifica se voi tutti ricordate, invece di lasciare, noi abbiamo raddoppiato, noi abbiamo cartellinato atleti che hanno fatto parte del grande ariano della serie D se vi ricordate, guarda Bascio, Luongo però nonostante tutto è mancato sempre quel piccolo sforzo economico superiore che ci poteva far fare risalto di qualità. Purtroppo il Cervinara e altre Eos ci sono riusciti a raggiungere i play-off anche se poi non li hanno vinti però noi purtroppo è mancato quel piccolo sforzo economico in più che il nostro presidente, ripeto, non poteva più sostenere. Non resta che attendere e augurarci magari un miracolo. Sì, l'unica cosa, niente, da questi vostri studi praticamente cercate pure voi, il titolo è là ripeto, è a disposizione di chiunque vuole prendere il nostro posto per il rilancio del calcio arianese perché questa è una comunità che non merita assolutamente di finire in terzo o in prima categoria, assolutamente no.